Sì, un piacere, vado io, siamo noi che tu chiamo, allora fai su palco numero 5 è un gruppo di One Piece, loro sono Patrizion, Bea, Lidia, Rosa, Yaga, Arianna, Seri, Armando, che interpretano Lucy, Zoro, Uso, Pogba, Sanji, Anami, Chopper, Nico, Robin, Trafalgar, Loro, un applauso! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!